Allora, oggi inizia il carnevale e quindi noi daremo le ricette delle frappe! Quanti grammi? 300 grammi di farina. Et voilà! 2 ovoi. 50 grammi di zucchero e si può fare con facilità. Facciamo, sì. Facciamo con facilità. Il burro. 40 grammi di burro che bisogna prima sciogliere sul forno. Abbiamo messo anche un po' di ricore. Vedete un dito di ricore, un cucchiaio di farina dentro. Ne mettiamo la metà e giriamo. Vai, Nonna Nella, gira lì. Hai visto, Nonna Nella? So grattugiare anche il limone. Devi andare a ride? Sì, è fatta tutto. E anche una puntina di lievito. Guarda che precisione ho, manco col compasso per me così. Eh? E' la prima volta che vedo Racken se... Ho capisco. Un miele. Adesso non ci rimane altro che... Mangiare. Ciao! Squisite. Buon carnivale! Ciao!